Buongiorno a tutti, stiamo per iniziare una nuova diretta di grafologia, oggi vediamo un esame grafologico di coppia, visto che è San Valentino, e quindi ci dedichiamo ad una comparazione tra due scritture. Nella coppia hanno presentato tutte e due determinate motivazioni per cui hanno voluto avere sia l'esame di coppia sia personale, quest'oggi vediamo alcuni dati significativi che possono far vedere sia l'affinità sia determinati tipi di distonie che possono mettere più in crisi il rapporto. Intanto troviamo le due grafie separate su due fogli diversi, così ognuno ha fatto la sua indipendentemente dall'altro, ne mettiamo una a sinistra e una a destra, in questo modo le vediamo comparate, non importa chi dei due sta da una parte o dall'altra, si possono anche invertire e guardare dove ci viene più comodo dare un certo tipo di osservazione. Per comodità naturalmente come le altre volte andiamo a computer e le vediamo anche poi ingrandite eventualmente se ci serve vedere dei dettagli particolari. Sulla sinistra vediamo la lei, sulla destra vediamo il lui, l'andamento delle righe di lei tende a essere leggermente inclinato verso il basso, quindi una persona che avvicina la mano verso il corpo man mano che sta scrivendo questo tipo di testo in questo foglietto. Avvicina il corpo la mano perché c'è una certa forma di stanchezza mentale o fisica nel momento in cui deve slanciare la mano verso l'alto per mantenere la riga rettilinea. Lui invece ha un andamento decisamente più rettilineo sempre e non scende nelle varie righe. C'è un dato però da prendere in considerazione, si avvicina molto al margine destro, quindi una persona che spesso va troppo vicino ai suoi limiti fisici, non tiene conto delle potenzialità reali che ha e quindi dovrebbe avere un partner che riesce a contenerne un attimo l'esuberanza. Vediamo invece che da parte di lei c'è addirittura una certa ritrosia a fare le frasi continuative fin verso il margine destro, infatti qui avrebbe potuto ancora inserire un pezzo della parola successiva e non l'ha fatto, per cui lei è più ritrosa, più timore, abbiamo detto verso destra ci sono le parole non scritte nel nostro linguaggio italiano, si scrive da sinistra a destra quindi man mano che si sta scrivendo qui è tutto vuoto naturalmente ed è un rapporto che noi sentiamo appartenere al futuro. Questa persona quando si è avvicinato qui nella parte terminale anziché iniziare la parola successiva ha preferito tirarsi indietro troppo presto, quindi una è ritrosa ad avvicinarsi i propri limiti, l'altro invece è anche un po' troppo esuberante e a volte si avvicina fin troppo. Può essere sempre la parte di stanchezza per lei, ma vediamo che ha dei filetti vediamo qui nella LA ad esempio oppure anche agli inizi delle lettere ingrandendo la grafia notiamo questa S ad esempio, questa S qui che inizia con una parte eccessivamente lunga prima di iniziare a scrivere, vediamo soprattutto qui sotto quanto sia rafforzata verso l'alto e soprattutto è stato scritto iniziando prima ancora delle altre parole che la sovrastanno la S oltretutto è un rapporto molto con il movimento corporeo, quindi è una persona che ha delle difficoltà a muoversi spontaneamente e ha sempre bisogno di un punto d'appoggio prima di iniziare a fare qualcosa, soprattutto, visto che è il caso di dirlo e la parola era proprio quella, ma è un caso, si ritrova infatti anche nella LA, soprattutto nel momento in cui deve fare un qualcosa di dinamico fisico in cui l'azione segue subito il movimento mentale. Notiamo come addirittura anche agli inizi ha avuto un certo impaccio e non ha sbagliato ma si è impappinata leggermente nello scrivere le parole iniziali. C'è la tendenza qui in questa V, vediamo questa V di venuta, a essere molto alta ma non fa una radice quadrata di V, in un senso che non sovrasta la E, perciò è una persona che ha la tendenza a sovrastare gli altri ma si tira indietro e lo evita. Questo nel rapporto di coppia può essere un buon dato perché in questo modo indica che può essere un po' titubante nell'inizio, nel modo con cui si presenta, può essere titubante nel modo con cui si approccia il futuro, può essere un po' troppo frenata da un passato che ha delle problematiche irrisolte, come si vede dai filetti iniziali molto lunghi, però cerca di non sovrastare gli altri e di non camminarci quindi sopra alla testa nel momento che impongono, cioè non impone le sue idee ed evita di essere prevaricante. Per quello che riguarda invece lui ci sono degli ampi spazi vuoti tra una parola e l'altra, una persona decisamente che riflette molto, non ho detto che rifletta anche bene, non si può sapere questo da questo dato, però prima di iniziare un nuovo tipo di argomento, un nuovo tipo di concetto, un nuovo tipo di azione riflette parecchio, qui di cerchietti della O ad esempio ce ne stanno tre abbondanti, qui ce ne stanno altri tre abbondanti, per cui c'è uno spazio vuoto notevole tra parole, qui addirittura ce ne sono quattro, uno, due, tre e quattro, e questo permetterebbe di avere un rapporto con la sua modalità di approcciarsi alle nuove operazioni un po' troppo riflessiva. Abbiamo però anche visto che al fondo, nella parte terminale dello scritto, esagera nell'andare troppo vicino agli ostacoli, si potrebbe quindi ipotizzare che questa persona in certi momenti si perde troppo tempo nel decidere, è un po' titubante, è un po' tentennante oppure è più pigro nel prendere una decisione e poi allora non gli resta il tempo e deve darsi da fare un po' troppo velocemente. Lo possiamo ipotizzare questo nel fatto che guardiamo le asole e anche le aste della parte superiore della scrittura sono molto alte, molto lunghe, probabilmente quindi pensa moltissimo rispetto, guardiamo gli allunghi inferiori, a quello che poi riesce a concretizzare, gli allunghi inferiori sono leggeri e non troppo lunghi rispetto degli allunghi superiori che sono decisamente più lunghi, se riuscissimo a mettere anche meglio a fuoco l'immagine, eccola qui, meglio ancora. La connessione e il tipo di luce sono quelli che ci permettono questi strumenti, però l'importante è avere la diretta. Dal vivo è sempre meglio, quindi venite tranquillamente a vederlo. Il fatto invece di lei che ha degli allunghi inferiori, guardiamo questa F, decisamente molto pronunciati, con una forza notevole di pressione, mentre gli allunghi superiori sono ridotti rispetto a quello di lui, è una persona più concreta, più pratica, l'abbiamo già visto anche da altri dati, e riesce quindi nell'esame di coppia ad avere un'influenza maggiormente concreta e maggiormente pratica in una persona, in lui, che invece ha la tendenza un po' troppo a essere mentale, a idealizzare e forse a impigrirsi prima di iniziare veramente a fare le cose. L'aggressività notevole che si vede in questa A, in questa E, filetto finale, avevamo fatto una pubblicazione recente su questi filetti di aggressività finale, ulteriormente conferma la verve notevolmente attiva e primaria della donna. L'uomo però non è da meno, anche in questo caso, tra l'altro si è tratto di atleti, persone molto attive, anche lui ha una buona dose di presidità, decisamente sono alla pari, quindi due persone attive. Possiamo poi vedere la T, cioè la comunicazione verbale. A volte parte prima dell'asta e non termina dopo l'asta, a volte il taglio T inizia prima dell'asta e prosegue, piccolo o grande, esattamente tanto a sinistra quanto a destra dell'asta. Grazie Agrippino, ho visto che sei online anche tu, ne vedo parecchi che stanno osservando cosa sta succedendo qui. Intanto eravamo sulla comunicazione, la comunicazione verbale di lui è molto pragmatica, dice quello che gli serve, non più di tanto, non si espone più di tanto in comunicazioni prolisse o in comunicazioni, noi non diciamo tanto quello che riguarda la comunicazione di quantità, ma la qualità della comunicazione. Ecco, la comunicazione verbale in qualità è un po' troppo trattenuta in lui, dice quello che gli serve, né troppo né troppo poco, a volte addirittura come in questa T mette una specie di asola, quindi si tiene una parte per sé nel suo emotivo e nel suo interiore e quindi a livello di rapporto di coppia la sua comunicazione potrebbe essere un po' scarsa se non trova veramente un buon feeling con lei o non è lei a stimolarla. Vediamo invece lei come si rapporta, la comunicazione, cioè i tagli T di lei sono decisamente più lunghi, più aggressivi, più sviluppati verso destra, quindi probabilmente è più lei che prende in considerazione l'atteggiamento comunicativo sbloccando di più il rapporto di coppia quando stenta ad essere di apertura e di spiegazione magari dei fatti o dei punti di vista o dei vari pensieri. C'è questa T un po' particolare ma le T sono variabilissime come forma che con questo ritorno indietro, una asola messa prima dell'asta e questo filetto che torna indietro, a volte essendo all'inizio della scrittura, avendo iniziato appena adesso a elaborare quello che avrebbe dovuto poi metterne le righe successive, potrebbe indicare che ha delle difficoltà se non ha i suoi tempi, i suoi modi di elaborazione a far sapere agli altri quello che veramente nel suo intimo, l'intimo è rappresentato dalla parte bianca, si sa che tutto quello che è scritto è relativo alla parte maschile paterna della persona, quindi alla parte dell'archetipo paterno, tutto quello che è vuoto, gli spazi vuoti sono spazi passivi, recettivi e quindi relativi all'archetipo materno e femminile, quindi una parte femminile interiorizzata non espressa, una parte maschile che però a volte torna agli inizi un pochino indietro, cioè più che altro parla per se stessa, per darsi un convincimento, inizio a parlare poi quando sono nel setting continuo e continuo in che modo? Sempre, vediamo in questo altro, facendo un'altra asola, mantenendo delle cose intimamente per me, ma collegandomi agli altri, il filetto è collegato alla lettera successiva e collegandomi anche con quello che può essere un discorso molto pratico, già l'avevamo visto dagli allunghi inferiori che erano decisamente concreti, spiego, per eseguire un esame grafologico corretto bisogna sapere se è un maschio o una femmina, se è un certo tipo di lavoro, soprattutto certi tipi di lavori che riguardano come per me la stenografia, oppure la pittura, oppure la parte che educa la mano ad un certo tipo di movimento, i geometri che disegnano molto e possono scrivere molto con lo stampatello minuscolo, sapendo che tipo di attività svolge la persona e sapendo se è maschio o femmina e sapendo nell'età si può indicare meglio poi quale carattere viene espresso dalla grafia. Ecco, queste persone qui che sono delle persone mature, uomo o una donna maturi, avendo questo allungo di 4-3 occhielli inferiore, in questo contesto, cioè nella nostra società attuale, persone non anziane che non hanno imparato quindi dei modelli calligrafici che si insegnavano 40-50-60 anni fa, fino a 40 al massimo e poi hanno smesso di essere insegnati, ecco queste persone hanno comunque una buona concretezza, si tende ormai a ridurre molto gli allunghi inferiori e gli allunghi superiori, quindi una donna che abbia 2-3, ma meglio 3-4 allunghi inferiori, cioè di occhielli degli allunghi inferiori, è comunque una persona concreta. Il maschio che ha un allungo inferiore maggiore della femmina è comunque una persona decisamente anche la concreta. Vediamo vedere il maschio, qui ci sono, vediamolo con la G, U ed egli con la visibilità, eccolo che ritorna ad essere ben definito, ci sono 1, 2, 3 occhielli, cioè se io prendo questo cerchietto della G e ne metto 1, 2, 3 sotto è la lunghezza standard che si consiglia in grafologia, deve avere 3 occhielli, quindi il maschio come allunghi, come dimensione di allunghi inferiori, di concretezza, di rapporto con la parte pratica, di rapporto col mondo reale, ha una dimensione simile alla femmina, nella femmina vale un pochino di più, perché in genere è il maschio che ha degli allunghi inferiori leggermente più lunghi, quindi lui li ha, secondo la grafologia classica, poi bisogna sempre renderlo caratteristico di quella persona, una buona concretezza, lei essendo donna neanche leggermente in più, lui però avendo degli allunghi superiori leggermente più lunghi di lei, tende a sbilanciarsi un po' nel mentale rispetto a lei che essendo più pratica e meno teorica, tende a essere più, non terra terra, ma una persona concreta che tenga conto del mondo reale per affrontare la vita quotidiana. Quindi in questo notiamo alcune caratteristiche personali particolari, questa stessa, questa parola qui che è indicata qua da adesso la evidenzio bene, ecco la stessa, dove è molto rovesciata la scrittura, in certi casi si ritrae su se stesse e ha delle difficoltà ad andare verso gli altri, non inclina ma rovescia la scrittura, questa scrittura è stata scritta da sinistra a destra. Nella parte maschile questo non è stato trovato e quindi una persona in genere con delle lettere che scendono in modo verticale, rettilineo, leggermente inclinate verso destra, quindi leggermente si protende verso gli altri, in genere non rovescia la scrittura. Se c'è una scrittura rovesciata e la persona non ha delle caratteristiche personali come mancinismo, come delle difficoltà proprio grafiche dovute a problemi fisici, se c'è una scrittura rovesciata sono accaduti degli avvenimenti che possono avere bloccato quella persona lì nell'esprimersi e nell'aprirsi verso gli altri. Quindi in definitiva la coppia intanto non viene stabilita se funziona o meno dalla grafologia, se due si piacciono, si piacciono, punto e basta perché è scatturito un qualcos'altro, però la grafologia permette di vedere se sono affini, in questo caso ci sono moltissimi dati di affinità, si nota anche se ci sono delle forti incongruenze, qui le due grafie sono molto, pur avendo caratteristiche diverse, molto simili come concetti, buon spazio tra parole, buon spazio tra le righe, una buona disposizione del testo, quindi due persone intelligenti, mature, che risolvono i loro problemi intersecandosi un po' uno nell'altro, dove uno esagera ad andare troppo nei rischi, l'altra invece si trattiene e riesce a essere leggermente più prudente, ma si tratta di piccole differenze, dove una è più concreta e pratica, l'altro trova le idee, diciamo che in questa coppia lui potrebbe avere le idee e lei aiutarlo a concretizzarle, questo è un buon tipo di affinità che ci potrebbe scaturire in queste due persone. Ecco questo è intanto il dato essenziale, poi se le persone volessero sapere esattamente con questa persona qui c'è un certo interesse, ci sono delle parole standard e delle lettere standard, faccio un esempio la F, ma soprattutto nelle comunicazioni dove lei ha scritto a lui qualcosa di specifico, lui ha scritto a lei qualcosa di specifico, non è questo il caso perché queste persone hanno scritto a me per farmi sapere delle loro problematiche, ma se la persona scrive ad un'altra ha certamente un lato emotivo, un imprinting personale di emozioni, di sentimenti, di sensibilità che riguardano quell'altra persona e la grafia si impregna di più di queste caratteristiche, per cui andare a vedere le F che indicano il fascino, la parte delle G che riguarda la parte di sessualità e come mi rapporto quindi con la sessualità, che per la parte grafologica di coppie è quindi indispensabile, la S cioè il dinamismo personale, una persona molto dinamica o una troppo ferma possono avere delle difficoltà a costruire insieme determinati percorsi, queste due persone abbiamo visto invece che si innestano bene anche nella parte di movimento, forse un po' troppo trattenuta lei, molto più atletico e dinamico lui, ma anche in questo caso si integrano, poi l'altra parte essenziale nell'esame di coppia è quella della comunicazione e l'abbiamo vista con i tagli T, qui ne abbiamo addirittura tre in pochissimo spazio, per cui piano piano pezzo a pezzo si costruisce un quadro dove avendo delle parole stimolo precise se si volesse si potrebbe andare ancora più nel dettaglio caratteristico per quella persona come ci sta con un'altra veramente, a volte non sanno neanche, a volte si illudono che le cose vadano e poi si scopre invece che potevano andare meglio e si evitano dei grossi tipi di conflitti e problemi futuri sapendo adesso come aggiustarli nel momento che sono ancora prevenendo riparabili, con coscienza e riparabili con la capacità di intelligenza e di saper usufruire di strumenti validissimi come questo che permette, avendo le persone presenti e consenzienti, di fare un buon lavoro di coppia. Abbiamo quindi fatto un esame grafologico a partire da due grafie di due persone mature e adulte che già essendo una coppia desideravano vedere la loro affinità. Questo è dedicato quindi alla giornata di San Valentino. Come sempre, lo stesso video che è avvenuto in diretta, speriamo che la linea abbia retto, lo sapremo a posteriore quando lo rivedremo da parte mia. Verrà scaricato il video e ricaricato anche su YouTube, pubblicato su Omolux. Quindi sul sito Omolux avete sempre le dirette tratte da YouTube delle varie opzioni.